Allora ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di Anna Bolena, l'ossessione del re, di Alison Weir. Si tratta del secondo romanzo della Weir dedicato alla serie delle mogli di Enrico VIII. Anna nasce nel 1501 ad Ever e qui trascorre l'infanzia insieme alla sorella Mary e al fratello George, dove riceve un'educazione convenzionale per una gentildonna. Cresciuta diventa poi la dama di compagnia di Caterina, moglie del re Enrico VIII. Enrico qui è fulminato dalla sua bellezza insolita, dalla sua anche sfacciataggine e dalla sua malizia. Però Anna non cede alle avance del re, dovrà sposarla se la vuole veramente. Il re farà di tutto per renderla sua moglie e regina, ma dopo soli tre anni di matrimonio si stancherà di lei e troverà un modo per liberarsi della sua ingombrante presenza. Sicuramente la prima parte del libro è quella più intrigante perché meno nota. Si parla della giovinezza di Anna, della sua esperienza alla corte di Francia e sono gli anni in cui si forma il suo carattere, la sua personalità così moderna, per un'epoca in cui alle donne era chiesto poco più del procreare. La seconda parte è invece quella più conosciuta, ovvero il corteggiamento di Enrico, il divorzio da Caterina, il matrimonio e la tragica fine. Ciò che colpisce della Weir è la sua abilità nel soffermarsi sulla psiche di Anna, sul suo desiderio di apprendere, sulla sua spregiudicata intelligenza e sulla sua estrema modernità. Non stupisce infatti che la sua fine sia stata così violenta. Dopotutto nel XVI secolo una donna così libera e sicura di sé spaventava non poco, specialmente se era la consorte di un re borioso e narcisista. Non si può ovviamente giudicare una donna di cui si continua a parlare a distanza di secoli e seppur poche siano le testimonianze dirette di Anna, il fatto che la sua figura continui ad affascinare ancora oggi la dice lunga sull'impatto che ha avuto sulla storia. Donna estremamente intelligente che ha saputo con sagacia e arguzia arrivare dove era covinciata di dover stare, dove meritava di dover essere. Senza dimenticare che è la madre della più grande regina d'Inghilterra, quella Elisabetta I, che tanto aveva della forte personalità di Anna e che ha reso grande la sua nazione. E tutto questo senza bisogno di essere un maschio. Come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, sono Rosa alias Mystic Reader, hasta la vista!